Ricordati di mettere un mi piace e iscriviti al canale e attivare la campanellina delle notifiche per per stare aggiornati su tante notizie e io ci tengo tantissimo. Sarà Alessia Marcuzzi la conduttrice triste e delusa per la svolta nella sua carriera televisiva? Uno scoop flash di D'Agospia parla di un'ex regina dei naufraghi che si starebbe sforzando di sorridere. In realtà, questa presentatrice sarebbe molto triste. Vicina al compimento dei 50 anni d'età, avrebbe intenzione di tornare al centro della scena in casa Mediaset. Sembra, però, che il biscione non abbia alcun piano per riportarla al timone di qualche show. Non solo, entrare in Rai per lei sarebbe davvero complicato. Secondo Bicchi, si tratterebbe proprio della descrizione di Alessia Marcuzzi. D'Agospia non cita alcun nome, ma i dettagli portano inevitabilmente a pensare che sia appunto della famosa conduttrice, ex volto dell'isola dei famosi. La storica presentatrice il prossimo novembre compirà 50 anni. Inoltre, ormai da qualche tempo non sta al timone di un programma televisivo. I fan sentono la sua mancanza e sembra che anche lei senta la necessità di fare il suo ritorno sotto le luci dei riflettori. Ecco lo scoop di oggi.